Il fatturato in calo, ampiamente al di sotto di quello ipotizzato per il 2014, 18 milioni di euro rispetto ai 40 preventivati e i consumi delle famiglie sempre meno incoraggianti, hanno indotto la multinazionale francese Auchan a smantellare gli oltre 7.000 metri quadri del centro commerciale Bari Blu alla periferia di Trigiano, nel Barese. Una doccia fredda per i 119 dipendenti che a fine febbraio potrebbero restare senza lavoro, a meno che il loro salvataggio sia reso possibile attraverso il subentro di un gruppo tutto trigianese, il marchio Simpli della famiglia Sgaramella. I Persimpli, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe prendere il posto di Auchan e utilizzare solo la metà della superficie disponibile, ricolocando non più di 80-90 unità. Nel frattempo, Sean non si è fatta attendere, la decisione di chiudere a Bari Blu è già presa ed irrevocabile. La multinazionale ha avviato le procedure di licenziamento collettivo e il 15 gennaio i sindacati incontreranno i responsabili del gruppo francese e quelli dell'immobiliare Trisenter di Brescia, proprietari dell'immobile. Si farà di tutto per salvare i posti di lavoro attraverso la ricolocazione dei dipendenti e attraverso l'assunzione di impegni ben precisi. La Trisenter, società di Brescia, proprietaria dell'immobile, ridurrà la superficie del food a 7.000 metri quadrati, dividendola in parti uguali con la no food nel settore dell'elettronica. Trattative sono in corso con il gruppo expert, ottimista l'amministratore delegato di Trisenter, Franco Pisa, secondo il quale i cambiamenti previsti per i prossimi mesi daranno una veste nuova e più completa al centro commerciale, che offrirà un servizio ancora più adeguato alle richieste della clientela. Grazie. Grazie.